Parliamo di cinema e parliamo di cinema italiano, vacanze campane per l'attore Lorenzo Balducci che ai nostri microfoni ci racconta tutto sull'ultimo film che interpreta a breve in uscita nelle sale cinematografiche Io, Don Giovanni Si può dire appunto che questo è l'ultimo film di Carlo Saura fotografato da Vittorio Storaro è una storia straordinaria, la vita di Lorenzo da Ponte che ha scritto il testo del Don Giovanni di Mozart ed è la storia di un Don Giovanni perché Lorenzo da Ponte ha una grande storia, una grande biografia da raccontare è un genio di assoluto e interpretare questo ruolo dalla giovinezza all'età più adulta, più matura è stata una grande esperienza, un grande lavoro di ricerca perché è comunque un personaggio lontanissimo da quello che sono io, dal tipo di carattere opposto però è con l'aiuto di Saura che è una persona così precisa, così tranquilla e serena nel lavorare e nel far lavorare gli attori è stato un viaggio veramente bello da percorrere, da vivere insieme a lui